ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco benagol recchi ben chiesere altcare italia ultimo aggiornamento 10 settembre 2021 cos'è benagoli confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere benagol durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è benagoli benagoli è un farmaco a base del principio attivo alcol di clorbenzilico più am il metacresolo appartenente alla categoria degli antisettici e nello specifico antisettici e commercializzato in italia dall'azienda recchi ben chiesere altcare italia benagol può essere prescritto con ricetta otici medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco confezioni benagol 16 pastiglie con vitamina c gusto arancia benagol 16 pastiglie con vitamina c gusto arancia importato dalla gran bretagna benagol 16 pastiglie gusto fragola senza zucchero benagol 16 pastiglie gusto limone senza zucchero benagol 16 pastiglie gusto menta fredda benagol 16 pastiglie gusto mentolo eucaliptolo benagol 16 pastiglie gusto miele barra limone benagol 36 pastiglie con vitamina c gusto arancia benagol 36 pastiglie gusto limone senza zucchero benagol 36 pastiglie gusto miele e limone informazioni commerciali sulla prescrizione titolare recchi ben chiesere altcare italia ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe c principio attivo alcol di clorbenzilico più ami il metacresolo gruppo terapeutico antisettici forma farmaceutica caramella pastiglia indicazioni antisettico del cavo orale posologia posologia deve essere utilizzata la dose più bassa efficace per la durata più breve necessaria da alleviare i sintomi adulti bambini sopra i sei anni d'età una pastiglia ogni due o tre ore nei bambini al di sopra dei sei anni di età consultare il proprio medico per una appropriata posologia non superare le dosi consigliate ed in particolare per benagol con vitamina c gusto arancia e benagol gusto menta fredda non superare il massimo giornaliero di otto pastiglie per tutti gli altri gusti di benagol non superare la massima dose giornaliera di 12 pastiglie somministrare benagol gusto menta fredda e benagol gusto gingere spezie ad adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni la durata del trattamento con benagol gusto mentolo e eucaliptolo non deve superare i tre giorni benagol gusto limone senza zucchero e benagol gusto fragola senza zucchero sono adatti per quei pazienti che devono controllare l'apporto di zuccheria calorico popolazione anziana non sono disponibili dati modo di somministrazione somministrazione oromucosale la pastiglia va disciolta lentamente in bocca controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 non somministrare ai bambini di età inferiore ai sei anni benagol gusto mentolo eucaliptolo e controindicato nei bambini con una storia di epilessia o convulsioni febbrili non somministrare benagol gusto menta fredda e benagol gusto gingere spezie a bambini di età inferiore ai 12 anni avvertenze speciali e precauzione di impiego fare attenzione ai bambini in età prescolare in quanto se le pastiglie vengono deglutite intere possono provocare soffocamento in caso di comparsa di fenomeni di sensibilizzazione o irritativi occorre interrompere vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono note interazioni con altri farmaci benagol gusto mentolo eucaliptolo non deve essere usato in concomitanza con altri prodotti medicinali o cosmetici contenenti derivati terpenici indipendentemente dalla via di somministrazione vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere benagol durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere benagol durante la gravidanza e l'allattamento nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va somministrato solo in caso di effettiva necessità gravidanza non vi sono o sono disponibili numero limitato i vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono riportati effetti sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari effetti indesiderati benagol gusto mentolo eucaliptolo a causa della presenza di mentolo e in caso di non osservanza delle dosi raccomandate può presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini nei vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio un eventuale sovradosaggio potrebbe solamente causare disturbi gastrointestinali per i quali dovranno essere adottati appropriati trattamenti sintomatici benagol gusto mentolo eucaliptolo in caso di assunzione orale accidentale o di errata somministrazione nei neonati e nei bambini può presentarsi il rischio di disturbi neurologici se necessario somministrare un trattamento sintomatico appropriato in centri di cura specializzati proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica antisettico codice atc r02 a03 i principi attivi 2,4 di clorbenzil alcol e amilmetacresolo sono antisettici con proprietà antibatterica battericida e batterio statica antifungina e antivirale entrambi i principi attivi inoltre proprietà farmacocinetiche uno studio di biodisponibilità condotto con pastiglie di benagol ha dimostrato un rapido rilascio di 2,4 di clorbenzil alcol e amilmetacresolo nella saliva con i picchi raggiunti entro 3 4 minuti dall'inizio della dati preclinici di sicurezza nel corso delle sperimentazioni cliniche e nell'impiego su vasta scala in numerosi paesi non sono stati osservati effetti secondari imputabili all'impiego del prodotto le prove tossicologiche su diverse specie di elenco degli eccipienti benagol pastiglie gusto gingere spezie una pastiglia contiene saccarosio glucosio liquido acido tartarico antocianine e 163 aroma prugna aroma crema aroma spezie aroma ginger trigliceridi a media catena benagol pastiglie gusto miele farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di benagol a base di alcol di clorbenzilico più amilmetacresolo sono benagol fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato